ha un piede magico, è uno di quelli che ha fatto estasiare più di tutti le tribune del Nardò, uno di quelli che ha regalato dei gol fantastici, di quei calciatori che uno si porta a spalla perché è il minimo che possa fare per ringraziare di aver ricevuto tanta grazia per la vista e per questa tecnica che Dio ti ha voluto donare e che tu hai voluto regalare alla città di Nardò, Walter tu sei un momento qua. Grazie di queste belle manole, buonasera a tutti. Ben ritrovati a tutti, grande piacere di vedere questa gente, di vedere questa immagine, mi viene la bella e d'osa perché è emozionante, è emozionante veramente e quindi devo dire grazie innanzitutto per l'invito, mando un saluto caloroso a tutti i pedelissimi dove conservo un grandissimo ricordo e credo che nella mia carriera calcistica ho avuto due grandissime soddisfazione. Il primo aver fatto gollo a Milan è nel Lecce e il secondo aver indossato la maglia del Nardò dove sicuramente io ho dato, ma credo di aver ricevuto quello che vi ho dato. Io tutti quando metto piede a Nardò mi viene la pelle toga quando sento sindaco. mi fa piacere che mi chiamate sindaco, però mi avete dato più di quello che mi ha dato voi. Quindi l'augurio a Nardò è quello che ritorni nel calcio che conti, è stato già detto, anche l'amico che ha parlato prima a Natale mi ha preceduto perché io ero pure uno di quelli che lunedì la mattina quando mi alzavo andavo a vedere, a sfogliare i giornali quando ho smesso di giocare. E vedere adesso che il Nardò non c'è più, sinceramente mi l'ammarica, mi l'ammarica tanto. Spero, guarda, con un grosso augurio che qualcuno veramente prendi questa situazione, ma a fatti però, no a parole, perché Nardò non merita più parole, Nardò merita i fatti. La piazza come la piazza come la piazza come la piazza, che ormai sarebbe più che il nasce al cuore. Noi ci auguriamo che qualche giorno sbocci qualche piede sinistro così estroso come il tuo che ci possa deliziare. Ma non mi assai girare. Si stanno un po' avvalgando, perdone, si stanno un po' avvalgando. Ok, bene. Giuseppe Mazzotta, il ricordo più bello che tu hai è la tua carica di simpatia, è vero o no? Però questa recarica di simpatia è legata a un episodio che poi ti ha reso famoso. Dillo tu. Golle col manco. Sì, gollo a Tricase. E i tamburi rotti negli anni passati perché avevo rotto due o tre tamburi, non so chi era. Sì, perché ogni tanto quando venivi squalificato e mandato in tribuna facevi il rullatoio di tamburi. Niente, grazie di tutto. Non ci siamo. Guarda, io mi sono emozionato, non sono per queste pratiche. Sei proprio a mezzo alle pratiche. E niente, vi ringrazio e vi auguro di andare avanti negli anni precedenti. Di emozioni in generale. Facciamo la tua emozione, però è pari alla tua simpatia. E noi ti ringraziamo per essere venuto qui a essere tale. Questo che ho fatto è il gollo e i tamburi. Però, come vedi, ti ricordiamo perché sono cose che rimangono nel terzo. Grazie di tutto, grazie. Grazie, grazie a voi ragazzi. Grazie. Quindi...